Grazie a tutti. Innanzitutto per la nostra libertà, Matteo Salvini l'ha detto più volte e Umberto Bossi l'ha detto più volte, bisogna impegnarsi per l'indipendenza, bisogna disobbedire e noi nei prossimi mesi faremo questo per difendere la nostra gente e i nostri cittadini. Mentre il primo punto secondo lei del progetto, come hanno detto anche molti, un progetto è sempre quello, in che senso andrebbe rinnovato? Secondo me più che rinnovato andrebbe fatto un tagliando su alcune questioni pratiche perché la realtà chiaramente cambia, quindi devono cambiare in parte anche le risposte che noi diamo ai problemi dei nostri concittadini, però le battaglie con le fondamentali che fanno parte del DNA della Lega rimangono sempre le stesse, cioè l'indipendenza da Roma e appunto negli ultimi anni si è imposto con forza anche l'argomento dell'indipendenza da Bruxelles. Quindi sono queste le due nostre battaglie. Il nemico comunque rimane sempre, almeno dal mio punto di vista, Roma. Alessandro Morelli, consigliere della Lega Nord, capogruppo della Lega Nord in consiglio comunale a Milano, anche questa in un certo senso può essere considerata una giornata storica per la Lega, no? Perché è la prima volta che si vota in questione. È una giornata storica perché ci sono le primarie per la prima volta, tutti i militanti con almeno un anno di anzianità possono votare, quindi questa è la nuova Lega, una Lega che guarda per il futuro con un piede nel passato, sempre nella tradizione. Quindi però come potrebbe continuare poi all'insegna dell'innovazione? Beh, rimigorendo nuove battaglie, anzi vecchie battaglie che devono essere continuate qua dietro, abbiamo un manifesto che riguarda il no euro, che è la battaglia per, immagino, per le prossime elezioni europee, un obiettivo che la Lega si prefigge da tanto tema. Lorenzo Fontana, abbiamo appena visto che ha votato, lei di Verona però ha votato qui a Milano, fa infatti il presidente di seggio per queste primarie che decideranno il nuovo segretario federale della Lega Nord dopo Roberto Maroni. Perché lei di Verona fa il presidente di seggio qua? Beh, perché abbiamo deciso che ci fossero presidenti delle regioni che provenissero da altre regioni, giusto per garantire, insomma, diciamo un po' di oggettività e anche per evitare che fossero eventuali preferenze. Credo che sia stata una scelta giusta e comunque è stato un piacere venire qui in sede federale a fare il presidente. Grande affluenza di militanti, poterono infatti votare loro, adesso cosa aspetterà quindi il congresso, cosa dovrà decidere? Beh, il congresso appunto i delegati rettificheranno quella che è stata la scelta della base, vedremo questa sera quale sarà l'esito dello scrutinio, comunque la cosa positiva è che veramente tantissima gente è venuta a votare, stiamo parlando addirittura di fra il 70 e l'80% in questo momento e i seggio non sono ancora chiusi. Di là dei risultati, quindi la direzione che deve prendere la Lega? Beh, sarà sicuramente una Lega di battaglia quella che deve venire, perché gli scontri che ci sono in Europa sono veramente difficili, c'è un blocco mondialista contro un blocco identitario e lo scontro si acuirà sicuramente con le prossime elezioni europee, pertanto ritengo che dovrà essere una Lega convinta, con una linea netta e precisa e che voglia veramente affrontare i problemi seri. Sono felice di aver votato, speriamo in bene, grande Lega, grande cuore, l'importante è che il movimento rimanga forte, unito, ricco di vitalità, di iniziative come sempre. Il cuore è la forza, non dobbiamo votare, il cuore è la forza oggi, il cuore è Umberto Bossi, la forza è Salvini, quindi entrambi sono due leoni che noi dobbiamo tanto, soprattutto Umberto Bossi come creatore di questo movimento splendido a cui io sono felice di appartenere e anche emozionato oggi perché mai mi sarei aspettato questa scelta che mette di fronte, ripeto, il cuore e la forza. Quindi io avrei fatto due croci, purtroppo ne ho dovuta fare una e speriamo in bene. Auguri al nuovo segretario. Indipendentemente dal voto, a che direzione deve prendere la Lega? Nel rinnovamento ma senza abbandonare assolutamente la tradizione, senza rinnegare quello che è stato fino ad oggi. Ecco, visto che è la prima donna che vedo qui a lei seggi, per le donne cosa chiede al nuovo segretario? Per le donne, sicuramente un'attenzione al lavoro che le donne hanno, sia il lavoro domestico che il lavoro professionale e poi che venga data informazione su quello che sono i diritti della famiglia e l'allevamento dei bambini, e la cura dei bimbi che sicuramente pesa molto nella vita quotidiana della donna perché deve fare quadrare il bilancio, cioè la soddisfazione di mantenere bene i bimbi e anche di la propria soddisfazione professionale se lavora. Ha votato? Cosa si aspetta da questo voto? Un rilancio del partito per diffondere nuovamente l'imperativo della Lega, che non è solo un imperativo della Lega, ma un imperativo che riguarda tutti gli abitanti del nord, una padania più forte e più importante a livello europeo. Lei è militante da tanti anni, no? Beh, io sono militante da 24 anni. Quindi, cosa si aspetta da questo congresso? Che svolte ci deve essere? Beh, io spero che si ringiovandisca la direzione perché è anche giusto, perché io rispetto tutti, però è giusto che qualche volta bisogna anche cambiare, insomma, diamo spazio ai giovani, vivi i giovani. Militante da quanti anni? Da due anni. Due anni, le piace la modalità delle primarie? Sì, assolutamente sì. Perché? Beh, è un sistema democratico che dà la parola ai militanti, quindi credo che sia il sistema più giusto, più equo. Che Lega deve uscire, secondo lei, da questo congresso? Beh, una Lega con maggiore spirito di iniziativa, soprattutto per quanto riguarda le tematiche economiche, perché in questo momento è questo l'emergenza di tutta l'Italia e anche del nord Italia, evidentemente, e dobbiamo assolutamente mostrare maggiore iniziativa in questo campo. Mi aspetto che, insomma, ci sia veramente un cambiamento in meglio, naturalmente, e anche appunto da parte delle donne mi auguro che ci sia qualche donna in più, che il nuovo segretario pensi un po' di più anche a noi donne. Comunque, insomma, speriamo che vada tutto bene, ecco.